Le colonne del benessere, alimentazione e attività fisica, quali componenti essenziali di un efficace progetto educativo e formativo. E' stato questo il tema del seminario di formazione promosso dal liceo statale De Capraris di Atripalda alla presenza di una rappresentanza di studenti con professionisti e medici del settore. Vogliamo sottolineare l'importanza di una sana pratica sportiva fatta bene sotto controllo medico, di una sana alimentazione e chi dei due medici specialisti e delle dottoresse che sono con noi potranno dare ai nostri ragazzi dei consigli veramente preziosi. Partendo anche dal presupposto che la Campania purtroppo è la seconda regione d'Italia con il più alto numero di obesità infantile e di inattività di ragazzi che non fanno sport. Quindi diventa importante trasmettere questo messaggio in cui noi medici sportivi dobbiamo essere un supporto per i ragazzi nel far capire che comunque lo sport aiuta sia da un punto di vista fisico, organico, metabolico ma anche ad aggregare. La cultura, soprattutto quella sportiva e alimentare, passa per le famiglie. E quindi se un insegnante non insegna agli alunni e ai genitori il messaggio non arriva. Deve essere qualcosa di culturalmente globale e quindi riuscire a prendere l'intera popolazione perché la vera prevenzione e assicurare la crescita corretta dei nostri figli, dei bambini, dei nipoti passa dal fatto che tutti si impegnino allo stesso modo e ci sia una nuova cultura sulla quale lavorare tutti insieme. Noi che rappresentiamo le figure professionali siamo responsabili di divulgare quelle che sono delle corrette informazioni per quanto riguarda lo stile di vita, quindi corretta alimentazione e attività fisica. La dieta mediterranea è quello che possiamo definire il modello per eccellenza di una dieta varia, semplice e soprattutto dalle proprietà salutistiche. Noi oggi insieme, io insieme ai miei colleghi, siamo qui proprio per ribadire questo concetto perché crediamo che sia molto importante per le nuove generazioni adottare uno stile alimentare ma la dieta mediterranea in realtà è uno stile di vita corretto al fine di prevenire numerose malattie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.